Ma che t'aspetti, soliti sospetti, sono la figlia illegittima di Chiambretti I miei rispetti, ai facchinetti, a quelli che arrivano anche se soltanti netti Io questi li schiaccio come insetti, sono una migliore, lo scrivi e lo ammetti Vi lascio tutti interdetti, vi tiro fuori gli spettri Non sono la velina contro campo, mentre me la canto tu godi come Franco Faccio gli scherzi col telefonino, e se lo chiamo rispondo anche al Bertino Ciao! La televisione, un blef, la politica, un blef, la musica, un blef Perfino il modo in cui la gente si comporta, un blef Miss, 23 anni, rapper di Falconara, sembra avere le idee molto chiare Niente metafora, niente diplomazia, di pop al femminile Ha una voce ruvida e aggressiva, anche più decisa e convinta rispetto al primo singolo Ciao Fibra, dedicato, se così si può dire, a una delle voci più note del rap nostrano, Fabi Fibra Il nuovo singolo si intitola Maria e Mia, ed è dedicato al mondo dei talent show E dunque ci porta in un mondo che è all'ombra sempre presente di Maria Solo il nome, niente cognome, ma nessuno ha dubbi sul fatto che la protagonista sia il De Filippi Simbolo nel bene e nel male di questo genere televisivo Il singolo è l'anticipazione di un album in uscita in questi giorni Che si intitola proprio Il Grande Blef Bell'esempio di come l'hip hop italiano sia sempre in grado di proporre novità davvero promettenti La mia suoneria La mia suoneria